Nei giorni scorsi la Polari di Torino Caselle ha recuperato un Rolex in acciaio ore brillanti del valore di circa 8.000 euro e un bracciale modello Tiffany del valore di circa 1.000 euro trafugati nei giorni precedenti al varco di sicurezza dell'aeroporto di Torino a seguito di perquisizioni presso l'abitazione di una donna amministratrice delegata di un'azienda del nord ovest. L'attività di indagine coordinata dalla locale procura è partita quando una passeggera torinese diretta in Sardegna con la famiglia composta da figlia e marito ha dimenticato il prezioso orologio e il bracciale nella vaschetta portoggetti dei controlli pensando che gli oggetti fossero stati ritirati dal marito. La passeggera in fila dietro la proprietaria dei gioielli accortasi di quanto era rimasto nella cassetta dopo essersi guardata intorno per controllare che nessuno lo osservasse ha preso gli oggetti e li ha immediatamente indossati per poi recarsi al guet d'imbarco. L'identificazione dell'autrice del furto è stata possibile attraverso l'uso dell'avanzato sistema di telecamere di sicurezza installato presso l'aeroporto dotato di moderni sistemi. Grazie all'attività di analisi scattata immediatamente dopo la denuncia del furto, i poliziotti, mediante una capillare attività di osservazione delle immagini, sono riusciti a seguire tutto il percorso della signora fino all'imbarco del gate del suo volo. A quel punto, non conoscendone l'identità, utilizzando le informazioni contenute nelle banche dati relative ai controlli passeggeri e riscontri incrociati sul web, gli investigatori sono riusciti a identificare la probabile autrice del furto. Successivamente la perquisizione presso l'abitazione della donna ha permesso di recuperare il prezioso orologio e il bracciale, che sono stati restituiti alla legittima proprietaria. La donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.